Per l'edizione 2017 di Vestire il Paesaggio, la manifestazione organizzata dalla provincia di Pistoia e Fondazione Caripit alla Biblioteca San Giorgio ha proposto una lezione di dialogo con Fernando Caruncio, architetto, paesaggista spagnolo, designer di fama mondiale e filosofo del paesaggio, che ha parlato sul tema i giardini della luce. Il giardino è una scatola dove si trasforma la luce attraverso elementi minerali, vegetali e acqua per finire a trasformare l'espazio in una vibrazione luminica. Chi li distingue di altri spazi che anche sono verdi non sono dei giardini. Il giardino ha questa vibrazione luminica che lo fa diverso, lo fa per dire in un modo magico, nel senso di trasformazione al di là della realtà. E questo non tempo che parlavamo prima che produce questa vibrazione di luce è una delle cose che distingue questi spazi straordinari o magici che sono i giardini. Tra i passaggi dell'intervento di Fernando Caruncio che più hanno colpito, l'importanza data al giardino per il futuro stesso della cultura europea. Nel giardino si può scoprire altre volte i valori della cultura classica greco-romana, che hanno portato il valore della democrazia, per esempio, come tanto il valore del cristianessimo. Tutte e due civiltà, tutti e due mondi hanno trovato un punto di incontro che si è espressato benissimo accanto alla natura. Quella è la differenza. Accanto alla natura abbiamo altre volte scoperto i nostri valori. È detto, e lo credo profondamente, che nel secolo XXI sarà possibile se l'uomo diventa altre volte gli ardinieri del suo destino. Del suo destino che sta accanto alla natura e accanto alla terra. Se questo non succede, avremo veramente di gravissimi problemi, come stiamo vedendo oggi. E questo punto, questo riferimento è fondamentale. E la chiave, per tutti una chiave universale, sta sul giardino. Dobbiamo andare a ritrovarlo altre volte.